L'Ordine degli Avvocati di Foggia ha deliberato all'unanimità di istituire la borsa di studio Camilla Di Pumpo, con la quale premierà annualmente i più meritevoli praticanti avvocato del foro. La giovane 25enne, rimasta uccisa in un terribile incidente stradale lo scorso 27 gennaio, sognava di diventare avvocato penalista. E l'Ordine degli Avvocati ha ritenuto che la sua particolare dedizione possa e debba essere considerata un esempio per tutti i giovani che intendono avvicinarsi alla professione forense. Colpisce infatti la motivazione con la quale ha ufficializzato l'istituzione della borsa di studio, per la passione e l'entusiasmo con cui ha svolto la pratica forense, per la costanza e la dedizione dimostrate nel suo giornaliero impegno in studio e nel tribunale, per il garbo, la gentilezza e il rispetto dimostrati nei rapporti con i colleghi, il personale amministrativo e i magistrati, per la qualità del suo lavoro, della ricerca e degli approfondimenti giuridici svolti, per la determinazione, la convinzione e la tenacia con cui ha coltivato e inseguito per tutta la sua vita il sogno di diventare avvocato. Lo scorso 2 febbraio in tantissimi hanno affollato Piazza Cesare Battisti a Foggia, partecipando alla fiaccolata di commemorazione per la giovane Camilla, stringendosi intorno alla famiglia e al compagno della ragazza.